Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi vi presento la ROM Snapdragon S2. Basata su firmware LSS con versione di Android 4.1.2 e kernel Dorymanx, la versione della ROM è la 1.3. Come la ROM S4 che ho recensito qualche tempo fa, anche questa Snapdragon punta a portare l'esperienza d'uso del Galaxy S4 sull'S2. Per quanto riguarda le impostazioni sono quelle classiche di Samsung ma quelle del Galaxy S2. Non sono divise in sezioni come appunto avviene nell'S4 e non ce n'è anche il tema chiaro. Un'altra mancanza che ho notato anche nella diretta concorrente, se così possiamo chiamare la ROM S4, è la possibilità di riordinare i toggle, ovvero gli strumenti presenti nell'area delle notifiche. Questa opzione è già presente su praticamente tutte le ROM che ho testato fino a questo momento tranne queste due e quindi si spera che verrà implementata al più presto. Una cosa che è stata aggiunta dell'S4 è la possibilità di attivare l'effetto luce nella lock screen. Per attivarlo dovremo andare su opzioni blocco schermo e disabilitare l'effetto increspatura oppure lasciarlo abilitato ma inserire uno sfondo animato. Tutte le altre opzioni come già detto rimangono quelle dell'S2 e viene aggiunta solamente la finestra multipla ovvero il multi window che dopo vi mostrerò. Anche la tastiera è quella dell'S4 e infatti come potete vedere ha il tema bianco. Per quanto riguarda le applicazioni di sistema oltre a quelle classiche sono presenti Battery Guru ovvero un'applicazione che apprenderà il nostro uso del dispositivo e ci aiuterà a risparmiare batteria, Clockwork Mode che ci consentirà di agire sulla recovery, il blocco note del Galaxy Note che quindi ci permetterà di scrivere a mano, Groupcast ovvero un'applicazione di Samsung per condividere file, Ink Color Changer per abilitare e modificare l'effetto di inchiostro nella schermata di blocco, il Play Movies, tre app dell'S4 ovvero S-Suggest che ci consiglierà applicazioni, S-Translator cioè un traduttore e S-Voice perfettamente funzionante. In più troveremo S2X che ci consentirà di impostare diversi valori, la famosa applicazione TripAdvisor e le due Viper for Android che ci permetteranno di agire sul suono. Per quanto riguarda le applicazioni multimediali sono quelle classiche dell'S2 compresa la fotocamera che però ha un'icona differente. Andiamo a vederla. Come potete notare le impostazioni, gli effetti e le modalità di scatto sono quelli che ben conoscete se avete un S2 e quindi proviamo ad effettuare una foto. Facciamone una con il flash e anche un paio senza. Ok, andiamo quindi a vedere il risultato ottenuto. Come vedete i dettagli sono definiti e quindi non ci sono problemi. Ottimo, vi mostro quindi il Multi Window. Finestra multipla che non è quella dell'S4 tuttavia funziona alla perfezione. Quindi apriamo l'archivio e insieme la calcolatrice. Come potete vedere si può lavorare contemporaneamente su tutti e due senza problemi. Ovviamente potremo ridimensionare lo spazio dedicato a una piuttosto che all'altra applicazione, sostituirle e metterne una a schermo intero. L'unico bug che ho trovato per questa ROM è il fatto che, riavviando il dispositivo, a volte non legge la SD esterna. E infatti vedete che, anche se in questo momento è inserita, non me lo segnala. E questo è un problema perché quando capiterà potremo anche riavviare il dispositivo oppure spegnerlo e riaccenderlo, ma continuerà a non leggerla. L'unica soluzione che ho trovato io è accedere alla recovery modificata ed effettuare un wipe Dolby Cache. Bene, passiamo quindi alle considerazioni finali. Per quanto riguarda la gestione energetica, con questa ROM mi sono trovato abbastanza bene. Con un uso medio sono sempre arrivato a fine giornata e anche con un uso piuttosto intenso sono rimasto intorno alle 6-7 ore. Quindi discretamente buona. Per quanto riguarda la fluidità, invece, ho avuto qualche problema in quanto a volte diventa scattosa di colpo senza applicazioni particolari che girano in background o stressandolo e quindi da questo punto di vista non è proprio il massimo. In ogni caso, se volete provare qualche applicazione del Galaxy S4 e testare un minimo l'esperienza d'uso, io ve la consiglio perché secondo me è migliore della concorrente ROM S4. Tuttavia, sia in un caso che nell'altro, non aspettatevi di trovare un'esperienza d'uso completa perché, come avete visto voi stessi, non è ancora così. Perfetto, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di farmelo sapere mettendo un bel mi piace, condividendolo e facendo conoscere il canale. I link utili li trovate tutti in descrizione e per qualsiasi cosa contattatemi pure qui sotto nei commenti oppure su Facebook o Twitter. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!